Ciao amici, buon lunedì e buon inizio di settimana! Ma sì dai, lasciami dire una bella frase fatta! Potrebbe sempre andare peggio, sarà anche banale ma dirselo non fa mai male! È in arrivo la primavera, siete felici? Io sì, bisogna fare come la natura, iniziare a rifiorire e risplendere e lasciare indietro le tossine dell'inverno, quindi vai con il detox! Questa settimana pensiamo un po' alla disintossicazione, che ne dite? Una tisana detox, una ricetta detox e un pensiero detox, vi va? Una buona tisana detox si può fare anche con la semplice ortica che cresce spontanea nei campi e nei prati Ha una funzione depurativa e drenante, lo sapevate? Chi ce la vicina può raccoglierla, con i guanti mi raccomando, e chi vive in città la trova in erboristeria Una tisana di ortica alla sera può iniziare questo processo di depurazione in modo blando e sicuro Ma di depurazione ne parlerò in modo più specifico La ricetta detox è questa vellutata di carciofi e topinambur Un balsamo per il fegato, facilissima da fare Patate, carciofi e topinambur in uguale quantità Tagliati a pezzi, cotti nel brodo vegetale, con gli aromi che preferite Chi lo tollera un po' di aglio, odori e spezie a piacere E una mezza foglia di alga kombu per prevenire il gonfiore alla pancia Poi si frulla tutto e si forma una crema È un piatto sano ma anche raffinato con cui potete fare una bellissima figura a tavola Il pensiero detox della settimana Iniziate a pensare che non solo il corpo ma anche la mente va depurata Allora in questi 7 giorni, fino al prossimo lunedì, vi propongo un esercizio Iniziate a osservare quali sono i vostri pensieri intossicanti Preoccupazioni inutili, lamentele costanti, critica eccessiva, invidia o gelosia nefaste Mettete a fuoco i vostri pensieri negativi Che poi piano piano nei miei video vi spiegherò come disintossicare la mente È bello sentirsi leggeri nel corpo ma anche la mente vuole la sua parte Piaciuti questi consigli? Mettete un bel mi piace Tanti mi piace, tanti nuovi video Iscrivetevi al canale con un click, è facile E attivate le notifiche Bene, prima di salutarci vi ricordo che come sempre mercoledì uscirà il mio vlog E domenica il video di salute naturale Questa settimana non perdetevi il video su come vivere liberi dalle preoccupazioni e non in perenne ansia E per la salute naturale di domenica parlerò proprio di detox ma in modo più specifico Con tante strategie per sentirsi leggeri, sgonfi, drenati e con tanta energia E intanto buona settimana a tutti amici Vi aspetto presto, sempre qui sul canale Naturalmente Ciao